Il pomeriggio di mercoledì 16 marzo intorno alle 15, sulla strada provinciale 222 a Castellamonte, coinvolte tre vetture, una Jaguar XF, una Renault Clio e una Fiat Scudo. L'impatto è stato alquanto violento e le vetture hanno terminato la loro corsa, dopo l'urto, in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo Canavese, i carabinieri di Castellamonte e il gruppo di protezione civile La Finice, che aveva appena terminato di prestare servizio alla corsa ciclistica. Il bilancio è di un ferito, l'uomo a bordo della Jaguar, che dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Grazie.